Non edizione del torneo Liga Actea, gruppo A dell'Actea League, abbiamo l'uomo team Rosario Priola e la partita tra Panineria Sanzio e Universal finita 6 a 1 per Panineria Sanzio. Rosario, dopo il 3 a 1 contro Animaniacs di settimana scorso cui ci eravamo lasciati e questa qualificazione, ora questa settimana, prima partita del girone, brutta sconfitta per 6 a 1, tu ci hai provato in tutti i modi ma fino al portiere, poi diciamo in passivo al primo tempo 3 a 0, ha pesato parecchio sul nostro partito. Diciamo che la squadra l'abbiamo giocato bene, l'abbiamo messa tutta, alla fine abbiamo perso, però l'importante è che fino alla fine ci abbiamo provato, poi ci sta anche una sconfitta, nonostante i vittori, pareggi, però l'importante è che ci serve andare avanti. Diciamo che l'impegno non vi è mancato, si vede pure come sei venuto, sei uscito tu, tutto sudato, senza fiato, però purtroppo non è arrivato il risultato, la settimana prossima speriamo che possa andare meglio, tu cosa pensi, come potete andare avanti secondo te in questo torneo? Noi pensiamo sempre di vincere, abbiamo pensato fino all'inizio delle partite, sì abbiamo giocato abbastanza bene, come vi ho detto prima, una sconfitta a ci postare, gli ragazzi sono stati tutti quanti bravi, dal primo all'ultimo, ieri a fuori, tutti quanti, e se l'abbiamo messa fino alla fine, l'impegno. Quindi non pregiudica queste vostre ambizioni e le vostre ambizioni? No, no, noi prima di tutto divertisci e poi vincere sempre, e poi se perdiamo capita. Va bene, grazie, sorry.